Una buona giornata e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca perché ci sarebbe un omicidio suicidio secondo le prime informazioni all'origine della morte dell'uomo e della donna i cui cadaveri sono stati trovati questa mattina in un appartamento di via Tagliamento a Montesilvano. Le due vittime sono marito e moglie, entrambi cinquantenni romeni da 15 anni in Italia. I corpi sono stati trovati in cucina l'uno sopra l'altro. Ma per le ultime andiamo in diretta proprio in via Tagliamento dove c'è Giuseppe Dintino a cui do il buon pomeriggio per le ultime su questa vicenda dai contorni ancora tutti da chiarire. Buon pomeriggio Giuseppe. Buon pomeriggio Jacopo, buon pomeriggio delle spettatori. Siamo a Montesilvano in via Tagliamento dove al primo piano della palazzina alle mie spalle si è consumato il terribile delitto di cui parlavi, due cadaveri rinvenuti l'uno sopra l'altro in una pozza di sangue. Al loro fianco un coltello, ferite da taglio su entrambi i corpi, segni di strangolamento sul corpo della donna e l'ipotesi più accreditata, come dicevi, è quella di omicidio o suicidio. Probabilmente si è trattato di un femminicidio. Una famiglia di origine rumena, lui un cinquantenne muratore in cassa integrazione, lei una 41enne addetta alle pulizie, un figlio di 10 anni che al momento del tragico gesto si trovava a scuola. Probabilmente è così che sono andate le cose. Una volta accompagnato il bambino a scuola, una volta tornati a casa c'è stata una discussione tra la coppia che ha portato appunto al delitto. L'allarme è stato lanciato da un vicino di casa che ha sentito le urla della donna, sono subito intervenuti sul posto i vigili del fuoco che hanno sfondato la porta, poi i carabinieri della compagnia di Montesilvano e del nucleo investigativo del comando provinciale di Pescara che hanno provveduto ai rilievi del caso, stanno ancora provvedendo ai rilievi. Sul posto anche un'ambulanza che non ha potuto far altro che constatare il decesso dei due. Vivevano qui da circa tre anni ma si trovavano in Italia da molto di più. Una famiglia di gente per bene, ben integrata nel quartiere, ci hanno raccontato i vicini di casa sbigottiti per quanto è accaduto. Allora direi proprio di ascoltare le testimonianze dei vicini di casa. Abita proprio accanto a dove è avvenuta questa tragedia e li conosceva? Sì, sì, come no. Che famiglia era? Una famiglia normalissima, lavoratori, la moglie pure lavorava, non mi escono le parole. Non era successo mai nulla che avrebbe potuto far pensare un esito del genere? All'interno della famiglia, uno non lo sa, però ha visto fra di noi e con noi, è stata una bravissima persona, rispettosa, tutto il vicinato qua gli voleva bene, tutto. Lei questa mattina ha sentito qualcosa? Ma no, io sono rientrato adesso perché faccio il camionista, sono stato fuori, sto rientrando adesso, mi ha chiamato mia moglie e mi ha detto guarda, quasi così è successo. Una cosa non me l'aspettavo. E qui comunque nel quartiere vi conoscete, vi aiutate l'un l'altro? Ma certo, ripeto, fino a quest'estate mi ha dato pure una mano a petturare a casa, qui, tutto tranquillo, mi ha detto qualche volta dobbiamo andare a fare una gita insieme, in famiglia, vieni su a casa mia. Mio geno l'ha aiutato a portare su il frigorifero, aveva comprato il frigorifero nuovo, era stato ma venti giorni o un mese in Romania con la famiglia, era tornato, mi ha riportato la birra, romena, tieni assaggi, cioè normale, come uno di noi, capito, era romeno però era un italiano ormai, capito, si era ben amalgamato qua con la vita nostra. Da quanto tempo, per quanto tempo siete stati vicini di casa? Eh da quando è venuto qua, sarà 4-5 anni che ha comprato l'appartamento, è venuto qua e prima non lo conoscevo, però si è sempre ben arrivato, si è presentato, ci siamo conosciuti, la famiglia qua la conosco tutti, io sto qua dal 2000, quindi niente, non lo so. Perché poi qui vi conoscete nel quartiere e vi aiutate l'un l'altro? Ma questa strada, siamo tutti noi. Questa strada, io ci abito ormai da 20 anni, è una strada super tranquilla, alla fine circoliamo noi e quelli che pass transitano con le macchine. E diciamo che ci facciamo la vicinanza tra di noi, tra di noi ci facciamo la vicinanza delle... E lei ha sentito nulla? No, stamattina no, perché io ho la camera dall'altro lato, non ho sentito niente, il sole che mi è venuto a suonare mi ha detto hai sentito qualcosa? No, non l'ho sentito perché... Quindi l'ha saputo dai carabinieri? No, l'ho saputo dal mio vicino che mi ha suonato prima, che lui ha detto ho chiamato i carabinieri, io l'ho rimproverato e dico ma anche se hanno fatto discussione una coppia, perché hai chiamato i carabinieri? Ha detto ma io ho sentito dei gridi forti, mi ha detto proprio e no, Nicola. A me Nicola mi ha chiamato. Ha sentito il grido di lui ma un lamento più che un grido, un lamento, ecco, perché lui mi ha detto se lui è sole, se hai sentito male, quando mi ha detto a costruire mi è venuto un po' la trevarella. Abbiamo ascoltato le parole dei vicini di casa, il tutto è accaduto questa mattina tra le otto e mezza e le nove e quando il bambino per fortuna di dieci anni si trovava non in casa ma a scuola è stato poi affidato ai servizi sociali in quanto in Italia non ci sarebbero parenti della coppia. In questo momento stanno procedendo, stanno concludendo i rilievi del caso, i carabinieri e sul PM è intervenuta oltre al medico legale anche la PM Fabiana Rapino. Prossimi aggiornamenti se non ci sono domande nell'edizione delle diciannove. Lina allo studio. No, solo una curiosità Giuseppe perché pare che la pista omicidio-suicidio sia stata quella immediatamente indicata e che sembra avere maggiori riscontri. È vero tutto questo? Sì, assolutamente, anche perché pare che non ci sia alcun segno di infrazione in casa. I due sono stati ritrovati l'uno sull'altro con un coltello vicino, ci sarebbero anche segni di strangolamento sul corpo della donna, quindi non solo omicidio-suicidio ma finora le dinamiche, quanto trapelato finora, lascia pensare che addirittura si è trattato di un femminicidio. giornata di visita per il segretario della CGL Landini, prima a Pescara per i 75 anni appunto del sindacato e poi ovviamente la visita ai lavoratori dell'Ariello di Villanova di Cepagatti. Buon pomeriggio Alfredo. Buon pomeriggio Jacopo, buon pomeriggio soprattutto ai nostri telespettatori. Sì, hai detto bene, in realtà la festa, così la possiamo chiamare, è proseguita proprio qui davanti ai cancelli della Riello perché il segretario Landini e tutta la Camera del Lavoro di Pescara hanno deciso di festeggiare tra i lavoratori, tra lavoratori in difficoltà come sono quelli della Riello ma non solo, anche quelli della Brioni arrivati qui proprio l'anniversario, i 75 anni dalla fondazione della CGL di Pescara. Andiamo subito ad ascoltare le parole di Landini che ha parlato, come vi ho detto, dell'avvertenza Riello, dell'avvertenza Brioni e ha fatto un cenno anche agli interventi che secondo lui il governo dovrebbe mettere in campo sia per le politiche industriali sia con una legge contro le delocalizzazioni. Sentiamolo. Sì, credo che ci sia bisogno da un lato di un provvedimento legislativo che vincoli le multinazionali a trovare soluzioni e a garantire continuità produttive proprio per impedire che ci sia un utilizzo delle nostre competenze, delle competenze dei lavoratori che poi vengono disperse e delocalizzate in altri luoghi. Per questo c'è bisogno di intervenire, di impedire che se ne vadano semplicemente licenziando, ma impegnando anche queste multinazionali a trovare soluzioni industriali anche sul territorio e a dare una continuità produttiva e occupazionale. Dunque queste le parole di Landini che ha tenuto un comizio proprio qui davanti ai cancelli dell'Ariello dove c'erano i lavoratori, ma anche alcuni esponenti politici del centro-sinistra. Adesso andiamo ad ascoltare proprio la voce dei rappresentanti dei lavoratori, dei sindacalisti e lavoratori dell'Ariello e dell'Abrioni. Vedete, è difficile vedere una collega che qui, come tante altre, ci ha rimesso la schiena in questa azienda con il lavoro, vederla piangere come una bambina di 5 anni ogni volta che parliamo di questa vicenda. Capite qual è il paradosso? Il lavoratore ricenziato che si vergogna, mentre la vergogna deve essere quella dell'imprenditore, dell'impresa che decide di delocalizzare, di mandare via senza una reale crisi effettiva. Non è facile neanche per noi affrontare questa brutta situazione. Credo che Kering debba dichiarare al momento cosa veramente ha intenzione di fare, perché negli ultimi due piani industriali che ci ha illustrato, in quello di qualche anno fa e nell'ultimo dell'anno scorso, non si è rivelato mai un piano industriale reale. Sempre sembrano righe scritte con inchiostro nero su carta bianca. Abbiamo ascoltato anche i lavoratori, i rappresentanti sindacali, gli RSU della CGL, sia di Brioni che della Riello. Con il segretario generale della CGL Landini, nell'intervista di cui avete visto in precedenza uno stralcio, abbiamo parlato anche di quello che è accaduto a Roma, dell'assalto alla CGL e della manifestazione che ci sarà domani di risposta all'assalto che Landini ha definito fascista nei confronti della CGL, con l'unità di tutto il sindacato. Ascoltiamolo. Ci vedo un tentativo di strumentalizzare un disagio sociale che esiste, un disagio sociale che c'è, una precarietà nel lavoro che c'è, una pandemia che ha picchiato duro e che ha aumentato anche le paure e le diseguaglianze nel nostro Paese. Quindi è stato importante che siano stati arrestati le persone che hanno organizzato ed è importante che vengano applicate le nostre leggi, ma è altrettanto importante, come dice la Costituzione, l'ossioglimento delle forze che si rifanno al fascismo e che agiscono con violenza, perché è il momento anche che lo Stato e la democrazia dimostri la sua forza. E dunque Landini, come avete sentito, ha parlato di democrazia e lo aveva fatto anche nell'Alexio Magistralis, se la regia è pronta può mandare anche le immagini di questa mattina all'auditorium Petruzzi di Pescara, dove la mattinata pescarese di Landini era iniziata. Landini si è rivolto agli studenti e ha parlato loro con un lungo intervento anche dei temi che sono in agenda in questo momento, della centralità del lavoro, dell'antifascismo, dei valori democratici e della Costituzione. State vedendo proprio le immagini di Landini che arriva all'auditorium Petruzzi. Jacopo. Peraltro Alfredo, in una visita contestuale al primo giorno, lo ricordiamo, di obbligo di Green Pass per i lavoratori, che ha suscetato parecchie polemiche e una visita anche simbolica da parte di Landini, al di là delle vertenze Riello e Brioni, che sono importanti, centrali per il lavoro della nostra regione. Però, essendo il primo giorno, oggi 15 ottobre, il primo giorno di obbligo del Green Pass obbligatorio per i lavoratori, una visita non casuale. Sì, tra l'altro Landini, in una parte dell'intervista che non abbiamo ascoltato, ha parlato anche chiaramente di questo e ha invitato il governo a calmirare i prezzi dei tamponi, ad una riflessione più in generale, fermo restando che Landini è assolutamente favorevole al Green Pass e alla vaccinazione, ma vista anche la percentuale, certo non elevatissima, ma che esiste di persone che non hanno fatto il vaccino. Secondo il segretario della CGL sarebbe necessario anche abbassare il costo dei tamponi per consentire ai lavoratori di effettuarli. Tra l'altro Landini ha anche lanciato la proposta di far pagare i tamponi alle aziende, perché, ha detto Landini, il lavoro è un diritto e non deve essere tolto per un tampone o per un vaccino non effettuato. Jacopo, se non ci sono altre domande, io restituirei la linea dell'estudio. Ma non solo l'Ariella, abbiamo visto anche l'Abrioni, è un'avvertenza importante per i lavoratori della nostra regione. Grazie, grazie anche ad Alfredo Primante. Noi rientriamo e come detto, sia per il pubblico che per il privato, questa mattina è scattato l'obbligo di esibire il Green Pass per accedere al proprio posto di lavoro. Siamo stati al Comune di Pescara in un'azienda di Chietiscalo. Vediamo com'è andata la mattinata nel servizio realizzato per noi da Stefano Recanati. Da oggi il Green Pass sarà ancora di più un documento indispensabile per le attività quotidiane. Il decreto del 21 settembre ne ha esteso l'obbligo per l'accesso a tutti i luoghi di lavoro, sia nel settore pubblico che nel privato, fino al 31 dicembre, termine dello stato di emergenza. L'obbligo vale per il personale dipendente, ma anche per tutti coloro che accedono alle pubbliche amministrazioni occasionalmente. Abbiamo cercato di allungare l'orario di ingresso anche per tamponare quei casi, questo è un gioco di parole, tamponare quei casi in cui un dipendente possa avere un disguido tecnico, recarsi magari in farmacia quindi a fare il tampone e poi venire un po' più tardi. Anche per i privati l'obbligo vale per i dipendenti, ma anche per chi entra in azienda sulla base di contratti esterni. Le verifiche spettano i datori di lavoro e per chi non è in possesso del certificato ci sarà l'assenza ingiustificata e di conseguenza il blocco dello stipendio, ma non la sospensione. Sì, veramente pensavo peggio. Invece devo dire che è andato tutto bene. I dipendenti hanno risposto correttamente, munendosi di Green Pass sia a cartaceo che sul cellulare. Anzi, l'impressione che ha avuto, la percezione è che è stata presa anche positivamente questo maggior controllo. Torniamo alla cronaca, adesso deve rispondere di violenza sessuale, per questo è stato sottoposto a fermo di iniziato di delitto. Si tratta di un cittadino camerunense di 27 anni che si sarebbe reso responsabile di una violenza ai danni di una 23enne pescarese percuotendola per costringerla poi ad un rapporto. Lo straniero che pochi giorni fa aveva ricevuto un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria era ospitato da un paio di settimane dalla giovane e dal suo coinquilino in attesa di trovare altra sistemazione. Dopo l'accaduto il giovane è stato visto fuggire dalla finestra dell'appartamento. Lo scorso 12 ottobre i familiari della vittima hanno segnalato alla 113 la sua presenza per le vie del centro cittadino, non lontano dal luogo di lavoro della ragazza, consentendo così agli agenti delle volanti di rintracciare l'autore della violenza che visti gli elementi raccolti è stato sottoposto al fermo con il contestuale trasferimento in carcere. Il corso delle indagini è emerso che il ragazzo era già stato indagato per una violenza sessuale avvenuta nel 2018 proprio a Pescara. Ieri il fermo è stato convalidato dal GIP che ravvisando la fondatezza delle tesi investigative e il pericolo di fuga e di reiterazione del reato ha disposto la custodia in carcere. Un veicolo alimentato a gasolio ha preso fuoco ed è andato completamente distrutto, lo vedete nelle immagini, questa mattina intorno alle 8.30 nella Galleria del Gran Sasso in direzione Roma. Fortunatamente illesi i tre occupanti del mezzo che si sono messi in salvo mentre la squadra antincendio di strada dei parchi concessionaria di autostrade A24 e A25 giunta sul posto ha domato in breve tempo le fiamme. Il tunnel del Gran Sasso in direzione Roma è stato riaperto al traffico circa 20 minuti dopo, l'incidente ha provocato una coda di un chilometro che è stata smaltita però nel momento della riapertura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per verificare ovviamente le cause dell'incendio. Cambiamo argomento adesso presentato questa mattina nella sede dell'Arap di Teramo, il progetto di riqualificazione dell'illuminazione esterna di sei aree industriali abruzzesi, Avezzano, Casoli, L'Aquila, Sulmona, Teramo e Basto. L'intervento a cura della Era Luce prevede la realizzazione di 4.000 punti luce con un risparmio energetico del 67%. Tania Bonici Castelli. Parte il progetto di riqualificazione dell'illuminazione esterna dei comparti industriali di Arap Abruzzo a cura di Era Luce. I lavori riguarderanno 4.000 punti luce che consentiranno un risparmio energetico del 67%. Le aree industriali che saranno riqualificate sono sei, Avezzano, Casoli, L'Aquila, Sulmona, Teramo e Vasto. Il costo complessivo del progetto è di 4 milioni di euro. È uno dei tanti passi importanti che con Arap stiamo facendo per riportare i consorsi industriali ad poter davvero offrire servizi alle aziende che sono in sede sul territorio e ad evitare che invece scappino come è accaduto nel passato e come accade perché trovano aree industriali senza illuminazione pubblica, con le strade sfasciate, senza fibra, senza digitale, senza servizi. La Lara offre servizi, presenta progetti innovativi molto importanti come questo di Era che nel giro di meno di un anno investirà oltre 4 milioni per rifare tutti i punti luce a modernizzarli riducendo di due terzi il consumo energetico quindi un grande attività di risparmio nella filosofia dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale ma soprattutto di offrire alle imprese servizi adeguati e meritevoli di un insediamento industriale. Le nuove infrastrutture che rinforzeranno le aree industriali ebruzzesi non prevedono solo luce ma anche strade e trattamento dei rifiuti. Per troppo tempo abbiamo pensato ai mega progetti ma non abbiamo pensato al fatto che le imprese avevano necessità di avere le infrastrutture per molto tempo abbandonate. Quindi Arap con questo project financing prima di tutto mette un punto fermo sul pezzo di illuminazione cambiando 4.200 pari della luce mettendo i led ma è solo il primo passo. Si passerà con i finanziamenti europei alle strade, ai sottoservizi e poi ai temi che sono collegati al PNR che sono l'ICT quindi la fibra in tutte le aree industriali e il trattamento dei rifiuti. E adesso parliamo di politica perché domenica e lunedì turno di ballottaggio tra le altre anche a Sulmona per scegliere il nuovo sindaco che guiderà per i prossimi 5 anni la città ovidiana. In vista del voto nessun apparentamento ufficializzato, anzi Gero Solimo nei giorni scorsi ha rinunciato anche a scendere in piazza per fare campagna elettorale ma lo sfidante Gianfranco Di Piero non si fida e invita tutti ad andare alle urne per confermare il voto che lo ha visto chiudere in testa il primo turno. La città di Sulmona sarà chiamata nuovamente alle urne per il turno di ballottaggio e la scelta questa volta sarà tra il candidato di centrosinistra Gianfranco Di Piero il quale al primo turno ha di poco superato il 39% delle preferenze e il civismo con Andrea Gero Solimo che ha invece ottenuto al primo turno il 34,32% dei voti. Il vero colpo di scena fino ad ora però è stato il clamoroso dietro fronte dell'ex assessore regionale Gero Solimo il quale ha parlato nei giorni scorsi di campagna elettorale finita aggiungendo per quanto mi riguarda la coalizione di centrosinistra può iniziare a lavorare alla prossima giunta di Sulmona. Scelta arrivata forse anche a seguito del secco no ad un apparentamento da parte del centrodestra e del candidato sindaco Vittorio Masci il quale ha dichiarato ufficialmente di non sostenere Gero Solimo in quanto scese in campo come alternativa al civismo. Nonostante questa rinuncia i candidati consiglieri di Sulmona protagonista hanno deciso di andare avanti. Infatti i 112 componenti delle sette liste, forte degli oltre mille voti in più di Gianfranco Di Piero, invitano a votare Gero Solimo. Va avanti deciso per la propria strada invece il candidato Gianfranco Di Piero che in questi giorni pur sapendo della scelta effettuata dal suo sfidante ha continuato ad incontrare cittadini, le categorie e facendo manifestazioni pubbliche. Dopo l'entusiasmante risultato del primo turno, con il quale i cittadini hanno chiaramente manifestato l'esigenza di un profondo cambiamento, siamo tutti chiamati a portare a termine l'importante partita per il futuro di Sulmona. Il prossimo sindaco dovrà essere in grado, con il decisivo sostegno delle forze politiche e di governo, di trasformare una città in declino in una città dove vivibilità e benessere tornino ai tempi migliori. Adesso apriamo la pagina di sport e calcio di Serie C che torna domani, il Girone B, almeno visto che poi in settimana, martedì, ci sarà il turno infrasettimanale di campionato. Dunque domani in campo per la nona giornata, Pescara che ospita l'Adriatico Cornacchia, la fermana nei biancazzurri da verificare in difesa la disponibilità di Drudi che però non dovrebbe essere della partita dal primo minuto. In porta dopo il turno di stop del giudice sportivo, Gaetano Auteri ritrova Di Gennaro tra i pali al posto di Sorrentino che nella partita che vedete nelle immagini contro la Virtus Centella comunque ha disputato un'ottima gara. A centrocampo, sempre a riduce della squalifica, torna Di Ambo. Rientra anche Frascatore in difesa che potrebbe dare il cambio ad uno dei tre difensori che hanno giocato lunedì sera contro la Virtus Centella proprio in vista dei tre impegni di campionato nel giro di una settimana. Davanti dopo le prove opache di Clemenza e Dursi in Terraligure da verificare se il tecnico biancazzurro confermerà i due ai lati di De Marchi. Comunque questo pomeriggio ci sarà la conferenza stampa proprio del tecnico biancazzurro. Nella fermana invece non sono al meglio Blondet e Cognegni e quindi sono da valutare per un eventuale impiego nella gara di domani. Out certamente Scrosta, Boateng e De Pascalis. Squalificato invece il centrocapista ex Lanciano Capece. Fischio d'inizio domani alle 17.30 arbitra lungo della sezione di Paola. E così come domani alle 17.30 scende in campo anche il Terramo al Bonolis contro il Gubbio. Nei bianco-rossi fuori Chiere Mateng, Trasciani e Rosso. Forfè quasi certo anche per Cucurullo che sarà valutato fino a poche ore prima del match. Panchina in attacco per Birligea che non è al massimo della condizione. Nel Gubbio invece assenti Migliorelli e Malaccari. Rientra Fantacci in attacco ma andrà in Panchina a Tridente con Mangni, Arena e Sarau. Ma dopo sette punti nelle ultime tre uscite test probante per il Diavolo come ammette anche il tecnico Federico Guidi, peraltro ex della gara. Lo ascoltiamo. Non nutro nessun tipo di rabbia, vendetta. Sono emozioni che non mi appartengono. Nel senso che è chiaro che quando intraprendi questo percorso in questa professione sai che ormai l'esonero per noi allenatori è, se non lo hai nel curriculum diventi quasi, non sei un allenatore. Quindi dobbiamo imparare a conviverci ed è stato un momento, è stata la mia prima esperienza nei professionisti e insomma è stato un momento molto formativo per me e quindi però detto questo io là sono stato poco ma ho conosciuto anche tante persone che tuttora mi vogliono bene, abbiamo stretta amicizia, quindi è per me una partita come tutte le altre. Anzi, il Presidente Notari e il Direttore Pannacci sono stati i primi che hanno creduto in me e al di là di com'è finita però io a loro sarò sempre riconoscente. Dopo Lucca, Viterbese e Pistoia, questa è per tipicità dell'avversario la gara delle quattro, forse un po' più diversa rispetto alle altre tre perché probabilmente ci sarà una squadra che vorrà un po' di più il pallino del gioco rispetto alle ultime tre che avete affrontato o sbaglio? Diciamo che affrontiamo una squadra che è costruita per i vertici della classifica e quella al di là di quello che viene detto in giro ma quando una squadra acquista giocatori del calibro di Fantacci, Sarau, Migliorini, Bulevardi, Cittadino, questo la dice lunga su quelle che sono le ambizioni di questa società. Affrontiamo una squadra che è il terzo anno con lo stesso allenatore quindi può dare seguito alla propria metodologia di lavoro, alle proprie idee di gioco e quindi è partita. non è casuale che le squadre che hanno iniziato con l'allenatore che avevano già nelle stagioni scorse stanno facendo bene, guardate anche l'Ancona Amatelica perché partono avvantaggiati rispetto alle squadre che riniziano da zero in termini sia di calciatori che di guida tecnica e quindi è una partita estremamente complicata, affronteremo una squadra che come valore fisico e valore tecnico è una squadra estremamente importante tra le migliori del girone ed è per noi un bel test per capire a che punto siamo. È chiaro che noi abbiamo già affrontato squadre di grande blasone con ambizioni di vertici della classifica, abbiamo fatto molto bene in termini di prestazione, qualche volta siamo usciti sconfitti in maniera immeritata come a Chiavari, qualche altra volta come Modena e Siena siamo riusciti a fare un risultato positivo anche se era un pareggio. È chiaro che noi vogliamo continuare a vedere i nostri miglioramenti e cercheremo di fare una partita coraggiosa di grande personalità cercando di mettere in difficoltà una squadra importante. E questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordo che i contributi che avete visto tra poco saranno disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo aggiornamento con il nostro telegiornale alle ore 19, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornale. Grazie per la visione!